Radio Radicale, siamo con il deputato del Movimento 5 Stelle, Maglio Di Stefano, membro della Commissione Esteri di Montecitorio per parlare, e non succede tutti i giorni, di una proposta di legge di iniziativa popolare che arriva in aula, che riguarda i trattati internazionali, le basi e le servitù militari, che arriva in aula, ironia della sorte, proprio mentre in Francia la Le Pen rimette in discussione la presenza della Francia nella Nato. Lei è relatore di minoranza di questo provvedimento, volevo sapere se questa proposta di legge di iniziativa popolare che voi sostenete rimette anche in discussione il rapporto italiano con la Nato. Siamo in un momento in realtà dove persino il Presidente americano Trump ha definito la Nato obsoleta e questa è una proposta di legge di iniziativa popolare che, come giustamente diceva lei, è difficile trovare in un'aula parlamentare perché vengono regolarmente ignorate dalla maggioranza e dal governo stesso. Noi ci abbiamo tenuto a ripresentarla perché era del 2008 e è una proposta che chiede sostanzialmente di avviare un processo che è già previsto allo saluto della Nato, che è quello dell'articolo 12, che dice che dopo 10 anni di appartenenza qualunque paese può chiedere una revisione profonda, una revisione della Nato. Noi la chiediamo abbastanza profonda, vero, ma non chiediamo l'uscita in questa proposta di iniziativa popolare, chiediamo che io l'ho definita parlamentarizzazione della nostra presenza nella Nato, cioè che tutti i processi più significativi per il paese legati alla Nato vengono dal Parlamento votati. Quindi ad esempio la concessione di basi militari, la concessione di servitù militari, esempi clamorosi ne abbiamo tanti in Italia, la base del Dal Molin in Veneto, il Camp Darby in Toscana, il Muost in Sicilia, tutte le basi di addestramento militare in Sardegna. Tutte zone colpite fortemente dal fenomeno Nato, perché abbiamo un tasso di mortalità infantile e malformazioni altissime nel tempo in Sardegna attorno ai campi di addestramento e abbiamo dei casi di malattie legate all'utilizzo delle armi degli stessi addestramenti. Noi chiediamo che per la concessione di una base militare si debba votare in Parlamento, chiediamo che non possano transitare armi nucleari, batteriologiche o chimiche sul nostro territorio, perché noi partecipiamo anche, abbiamo anche siglato il TNP, il Trattato di Non Proliferazione, e invece poi ci rendiamo conto che nonostante noi non si abbia poi armi nucleari, ne teniamo circa 90 americane tra Ghedi Aviano. Per non parlare dei rischi che questo comporta, si sa per certo già dal 1961 che c'erano dei sistemi di contromissilistica puntati sopra di noi perché teniamo le armi americane. Insomma è tutto un sistema che viaggia sopra la testa non solo degli italiani ma anche del Parlamento. Tra l'altro la proposta fa chiaro riferimento al fatto che la Costituzione stessa prevede che non esistano trattati segreti al Parlamento in sostanza. Quindi noi chiediamo semplicemente che tutto ciò che riguarda la Nato sia votato e deciso da questo Parlamento che ne darà mandato al Governo, ovviamente di volta in volta. Voi chiedete anche di cambiare quella che viene definita come la procedura semplificata e quindi al voto del Parlamento arriverebbe anche l'accordo fondamentale che disciplina lo status delle basi americane in Italia e l'accordo bilaterale sull'infrastruttura, il cosiddetto BIA che è stato stipulato nel 1954. Allora se il Parlamento però vota contro, che succede? Purtroppo rimane tutto com'è. Noi già sappiamo, ci hanno già anticipato che il Partito Democratico presenterà degli emendamenti soppressivi dell'intero articolato quindi non ce la faranno neanche discutere questa legge. A volte io credo di poterli definire più realisti del re, cioè vanno ben più oltre nell'atlantismo rispetto a quanto il Presidente americano stesso lo sia. Rimane tutto com'è e continueremo ad assistere a un Paese sfruttato da forze straniere sopra la volontà popolare stessa.